Il meccanismo pensato da RERA, che si chiama TIXI, è una mostruosità ed è indifendibile. Uno perché rintroduce all'interno della bolletta tutto quello che noi avevamo cancellato con il referendum, ovvero la remunerazione del capitale che rientra con una nuova dicitura, oneri finanziari. Quindi è garantito il profitto alle società di gestione a prescindere dalla buona amministrazione. Inoltre la morosità è contemplata all'interno di questa tariffa a prescindere, perché c'è un parametro del 7% sul fatturato che viene inserito all'interno della tariffa a prescindere se quella morosità c'è o non c'è. Terza cosa, nella tariffa verrà calcolato anche il mancato fatturato, ovvero se il gestore prevede di fatturare 100, ma poi i cittadini sono bravi, fanno il risparmio idrico e quindi l'ACA fattura 80, ecco l'ACA può richiedere quella differenza tra 100 e 80, insomma i cittadini pagano sempre. Nel nostro caso di ACA si aggiunge poi l'indecenza, perché ACA chiede degli extracosti di morosità, perché la morosità di ACA degli anni che vanno dal 2012 al 2015, parametrata sul fatturato, è una percentuale doppia rispetto a quella standardizzata, invece del 7% e una percentuale dal 13 al 14%. Perché lo chiede? Perché ACA deve onorare i debiti del concordato preventivo, cioè i cittadini oltre a pagare le morosità pagano anche la cattiva gestione degli anni precedenti. È una situazione indipendibile, chiediamo ai sindaci un atto di responsabilità nei confronti di questo buco nero che continua ad essere l'ACA e chiediamo che si ponga fine alle spa dell'acqua.